La procura regionale della Corte dei Conti ha citato in giudizio l'ex direttore generale dell'ASL dell'Aquila Giancarlo Silveri, l'allora direttore amministrativo Silvia Cavalli, l'allora direttore sanitario Libero Colitti, il dirigente del servizio acquisti dell'epoca Fabrizio Andreassi e il responsabile del procedimento Massimo Pezzopane. La motivazione è l'illegittima rinegoziazione da parte dell'ASL provinciale aquilana del contratto di fornitura di materiali di consumo per i laboratori di analisi dell'Aquila Avezzano senza che fosse espletata la relativa gara. L'ultima infatti risale al 1997. A svolgere le indagini sono stati i carabinieri a seguito di un esposto presentato nel 2013. Il vice procuratore ha chiesto la condanna dei cinque al pagamento, in favore della regione Abruzzo, di oltre 3 milioni di euro, pari al presunto danno erariale dunque causato dal provvedimento. Secondo però il legale dei cinque, Lazzari, sono errati i calcoli dei carabinieri che nella relazione avrebbero, secondo il legale, fatto errori di tipo aritmetico. Secondo l'accusa, invece, Silveri dispose la rinegoziazione del contratto con la Abbott SRL di Roma, fornitrice di reagenti per i laboratori analisi, estendendo il servizio ai laboratori di Avezzano sul Mona e Castel di Sangro, precedentemente non contemplati, per un valore agno di 2,5 milioni di euro e per un totale nel biegno di 5 milioni. Per i carabinieri, inoltre, se l'azienda avesse portato avanti una procedura concorzuale, avrebbe risparmiato ben 3 milioni di euro e di qui questa richiesta.